Troppi errori nelle ricette digitali e piombano nel caos medici e farmacie. A lanciare l'allarme la Federazione Italiana Medici, che lamenta anche blocchi nel sistema, soprattutto in Sicilia. Nell'isola il formato elettronico è ormai una realtà, con oltre il 90% dei medici di famiglia e dei pediatri che hanno finora prescritto 12 milioni di ricette.